Ti è mai capitato di sfornare una torta con la cupola? Oggi ti svelo due trucchi per sfornare un dolce bello piatto perfetto per essere tagliato e poi farcito Lo vediamo insieme mentre preparo la torta allo yogurt della mia nonna Monta le uova con lo zucchero, ci vorranno almeno 3 minuti Poi aggiungi l'olio di semi, lo yogurt bianco, la farina setacciata e di lievito Amalgama il tutto e poi versa all'interno dello stampo Il primo trucco è quello di utilizzare le strisce per torta Che vanno immerse in acqua per almeno 3 minuti E poi strizzate e avvolte intorno alla tortiera Adesso inforno due torte Questa è la prima che è venuta bella piatta grazie alle strisce Questa è l'altra Ma abbiamo il secondo trucchetto, farla raffreddare a testa in giù Guardate come sono venute entrambe belle piatte Adesso una spolverata di zucchero a velo, la taglio E questa è la torta più buona al mondo Perfetta per essere farcita ma anche mangiata così com'è Perché è morbidissima Grazie a tutti Grazie a tutti